Per la prima volta, Emanuele Tamponi, che è un esperto di Google Ads, tanto per farla molto semplice perché io sono ignorante, riuscirà in 15 minuti con bonus, perché è mio amico, a fare il talk su Google Ads. Quindi un applauso. Vieni Emanuele. Allora, come diceva Simone, sono l'ultimo ostacolo fra voi e il pranzo, per cui tenete duro, durerà poco e spero che sia anche interessante. Oggi vi parlo di come fare marketing con Google, che chiaramente è un tema talmente vasto che potrei parlarvene per ore e ore. Per cui ho ristretto un attimo l'ambito e ho deciso di parlarvi di tre cose pratiche che possono essere messe in campo sia da freelance che da aziende. Io sono Emanuele Tamponi e lavoro con alcune aziende che mi piacciono moltissimo e negli ultimi anni ho scritto anche due libri su Google Ads, per cui questo è il motivo per cui sono qua a tormentarvi con questo argomento. Riavvolgiamo un attimo il nastro e chiediamoci che cos'è Google. Ora, normalmente quando si parla di Google si pensa a questo, cioè al motore di ricerca che ci dà dei risultati. Andando un pochino più in profondità, ci rendiamo conto che quando noi effettuiamo una ricerca, la parte alta dei risultati è dominata dagli annunci sponsorizzati. Cosa significa? Significa che le aziende che vogliono stare lì utilizzano uno strumento, che è appunto Google Ads, e per ricevere traffico danno dei soldi a Google. Questa è detta in maniera molto sintetica e molto chiara. Subito sotto i risultati a pagamento troviamo quelli che sono risultati organici, ovvero risultati che le aziende possono ottenere se conoscono la SEO o se hanno un consulente SEO. Google però non è solamente un motore di ricerca, infatti Google è anche proprietario di YouTube, che non pensa abbia bisogno di presentazioni. Google è proprietario anche di Gmail, che è il servizio di posta più usato al mondo. Google è proprietario di Google Play, che è il luogo dove andiamo a scaricare le app per i telefoni Android. Google è proprietario anche di Google Maps, e anche questo non ha bisogno di presentazioni. Google infine ha anche accordi commerciali con circa 2 milioni di siti, ovvero una quantità tale di siti, e quindi circa il 90% del traffico transita da questi siti. Pagando Google tramite Google Ads è possibile inserire i propri annunci appunto su questi 2 milioni di siti. Google quindi non è solo un motore di ricerca, è più che altro un ecosistema di ambienti in cui le persone possono cercare informazioni. Contemporaneamente quindi Google è anche un ottimo sistema per farsi pubblicità, essendo appunto un ecosistema di ambienti molto frequentato, è un ottimo modo per esporsi e farsi conoscere dalle persone di cui ci interessa l'attenzione. Quello che è ben detto poco, e è quello di cui vi voglio parlare adesso, è che Google è anche una miniera di informazioni. È una miniera di informazioni che mette a disposizione di chi lo sa usare. Quindi ripartiamo da qui, il cuore del mio intervento parlerà proprio di queste tre cose pratiche a costo zero, e ripartiamo appunto da tutte queste informazioni che Google ci mette a disposizione. Il primo consiglio che do in generale a chiunque voglia usare Google o lo sta già utilizzando, è quello di vedere come si muove l'interesse, cioè utilizzare la sua capacità di intercettare dei bisogni per vedere che dati ci dà. Facciamo un esempio concreto, visto che siamo nel periodo giusto, parliamo del Black Friday, che tutti sapete che cos'è, ovviamente. Del Black Friday vale la pena però sottolineare un aspetto, ovvero è uno dei momenti dell'anno in cui le aziende fanno un sacco di fatturato. Normalmente il Black Friday si tiene l'ultima settimana di novembre, e in quella settimana lì le aziende concentrano buona parte del budget pubblicitario per intercettare l'attenzione delle persone. Però vediamo che cosa succede se facciamo un'analisi tramite uno degli strumenti che Google mette a disposizione. Questo strumento che è gratuito e che si può usare anche senza registrazione si chiama Google Trend. Cosa fa? Semplicemente va a capitalizzare tutte le informazioni che riceve grazie ai suoi ambienti e ce le mette a disposizione. In particolare ci racconta come si evolve l'interesse verso un argomento che a noi ci interessa. In questo caso gli ho chiesto come funziona, come si muove l'attenzione delle persone in relazione al Black Friday, che abbiamo detto appunto essere a fine novembre. e vediamo ora, nella slide non si vede perché è molto chiaro, ma il grafico inizia alla prima settimana di settembre. Quindi vuol dire che già alla prima settimana di settembre ci sono delle persone che cominciano a interrogarsi sul Black Friday, cioè quando sarà, eccetera. Questo ci fa capire che ci sono delle persone che già a settembre stanno entrando nell'ottica di fare affari. È il momento in cui le persone quindi si stanno strutturando un'opinione verso un qualche cosa, un qualche cosa che in genere potrebbe sfociare con un acquisto. Vediamo, ed è sulla fine del grafico, che questo picco noi ce l'abbiamo già al 17 ottobre, quindi un mese prima. Rivalutiamo quello che ho detto prima. Le aziende concentrano una buona parte del budget nella settimana del Black Friday, ma probabilmente quando i giochi sono già fatti. Perché dire così? Perché le persone incominciano a pensarci molto prima, tanto prima. Non è forse il caso di anticipare quella pressione pubblicitaria in un momento precedente al Black Friday, cioè incominciare a lavorare di anticipo, entrare nella sfera di attenzione proprio quando le persone stanno cercando di strutturarsi un'opinione su un qualche cosa. Beh, probabilmente sì. Certo, bisogna poi trovare le tattiche, le strategie giuste, ma con questo dato, beh, la storia è cambiata. Non è più concentriamo tutto il budget in quella settimana lì, ma teniamo conto che l'interesse delle persone si muove prima. Questa è una delle cose che possiamo fare con Google Trend oppure con i prodotti Google. Sempre utilizzando lo stesso strumento, possiamo scoprire delle cose molto interessanti. Come, ad esempio, qui ho chiesto a Google Trend di mostrarmi i dati circa BeReal. Ora, BeReal non vale la pena, secondo me, in questo momento spenderci più di tanto, parole più di tanto, però diciamo che è un social network emergente. Gli ho chiesto di mostrarmi l'interesse nell'ultimo anno. Beh, per molti mesi l'interesse stava praticamente pari a zero, ma da quest'estate, non so di più perché, ma l'interesse verso questo social network è esploso. Ora, per chi lavora in ambito social, o comunque lavora nel marketing o nel digital marketing, potrebbe venire voglia di tenere d'occhio questa nuova app e questa nuova social, per vedere, per capire in tempo, quando è che davvero incomincia ad essere interessante. E riuscire a capirlo magari con un bricolo d'anticipo rispetto ai competitor, che magari sono quelli che proprio non stanno osservando questo tipo di strumento. Google Trends ci dà anche altri dati, ovvero non ci dice solamente come si muove l'attenzione delle persone circa un qualche cosa, ma ci dà questi dati anche a livello regionale, oppure a livello di città. Anche questa è un'informazione utile per capire dove orientare la pubblicità, oppure semplicemente per capire se nella nostra regione, per l'argomento che ci interessa, c'è già attenzione oppure no. Con i vari strumenti di Google, poi magari dopo al corner, chi vuole, insomma, ne possiamo parlare, si possono fare anche analisi un pochino più sottili. Io in questo caso ho utilizzato un altro tipo di strumento, che si chiama Keyword Planner, ed è che si può usare prevalentemente se si ha un account con Google Ads. Per raccontarvi il suo funzionamento, torno un bel po' indietro, in una vita precedente, forse anche un'era precedente, perché siamo al 2008, in cui era ancora dipendente in un'agenzia di web marketing. E sul finire del 2008, incomincio a maturare l'idea di, ok, voglio diventare freelance. Questa agenzia di web marketing cosa faceva? Tipicamente, come tutte le agenzie dell'epoca, offriva il pacchetto completo. Sito web, email marketing, SEO, Google Ads, di cui mi occupavo io, e poi anche altre cose. E mi chiedevo, ma ci sarà spazio anche per un freelance completamente verticale su una disciplina così specifica come la SEO? La domanda, messa in altra maniera, è, ma queste aziende vogliono solamente lavorare con agenzie, ovvero pacchetto completo, o cercano anche, appunto, una figura specializzata e molto verticale? Utilizzando, appunto, lo strumento che dicevo prima, il keyword planner, sono andato a indagare tutte le ricerche inerenti alla SEO, per vedere come si stavano sviluppando e come, appunto, trovare alcune conferme, ho smentito la mia ipotesi. Ho trovato un sacco di ricerche su come fare SEO, un sacco di ricerche anche, quindi un sacco di interesse nei confronti del SEO per e-commerce oppure il SEO per il turismo e finalmente trovo la nicchia che mi interessa, ovvero c'erano già tante ricerche incentrate sul SEO freelance, quindi bingo, c'è spazio anche per me. In altre mani, detto in altra maniera, ho trovato, grazie a questa analisi, la conferma a ciò che stavo cercando. Prima di iniziare a avventurarmi come il freelance, SEO freelance, avevo trovato, appunto, questo interesse nei confronti di questa figura professionale, quindi potevo andare avanti. Questo tipo di analisi, non vorrei che qualcuno si ingannasse, non vale solamente per chi fa il mio mestiere o solamente in ambito digital, si può fare per qualsiasi tipo di mercato, per qualsiasi tipo di ambito, quindi si può andare in profondità e fare una specie di ricerca di mercato per vedere se c'è un interesse verso ciò che vendiamo o ciò che vorremmo vendere. Quindi sono molto utili per confermare o smentire un'ipotesi o anche per farsi venire qualche buona idea. Secondo punto, quali contenuti interessano alle persone? Allora, nel 2022, io spero che chiunque voglia fare marketing in un mondo digitale sia consapevole che bisogna lavorare di contenuti, che non c'è scappatoia e contenuti anche scritti bene. Come ci può essere d'aiuto Google? Beh, da seo vi dico che le persone cercano informazioni, quindi cercano contenuti e quindi bisogna stare abbastanza attenti a ciò che le persone cercano. Come possiamo trovare spunti? E come ci può essere d'aiuto Google? Anche in questo caso possiamo trovare una soluzione che è gratuita, serve solamente del tempo. Qui ho fatto, sono andato su motore di ricerca, ho effettuato una ricerca generica come SEO e a un certo punto fra i risultati Google cosa fa? Mi mostra le domande ricorrenti. Se qualcuno volesse chiedere ma come fa a saperle, e torniamo al fatto che proprietario di motore di ricerca, proprietario di YouTube, eccetera, eccetera, queste informazioni riesce a estrapolarle. e queste domande, sono domande frequenti, potrebbero essere un ottimo spunto per creare dei contenuti. Contenuti che possibilmente siano utili, perché le persone non ne possono più di leggere testi dove le aziende si definiscono leader del settore. Basta, non se ne può più. Quindi proviamo a immaginarci, a entrare nella testa del nostro potenziale cliente e cercare di fornirgli delle informazioni che gli facciano capire esattamente che cosa facciamo e come lo facciamo, ad esempio. Cos'è che c'è differenza rispetto agli altri. Vado veloce verso il finale. Per chi non ha un sito e non vuole spendere in pubblicità, Google può fare qualcosa in questo caso, c'è un programma che si chiama Google My Business che è totalmente gratuito e che funziona. Grazie all'iscrizione a questo programma noi possiamo apparire nelle mappe. Quindi quando le persone cercano un ristorante ma anche un libro professionista nelle vicinanze, semplicemente iscrivendosi abbiamo la possibilità di apparire in queste ricerche e appunto questa cosa è totalmente gratuita. Questo strumento che in genere viene sottovalutato invece è molto interessante perché uno può essere utilizzato da tutti, non c'è bisogno di avere un sito, certo se avete un sito è anche meglio. È utile perché è anche uno strumento di dialogo fra le aziende freelance e le persone che possono acquistare da noi. Perché uno strumento di dialogo? Perché c'è la sezione domande e risposte. Quindi le persone sulla scheda possono farci delle domande, noi possiamo rispondere, tutte le altre persone che visiteranno la scheda potranno vedere le domande e le risposte e quindi farsi un'idea su ciò che noi facciamo e come lo facciamo e come ce la portiamo anche nei confronti dei clienti. È uno strumento di dialogo perché le persone, i nostri clienti possono lasciare anche le recensioni, recensioni visibili e anche in quel caso chi ancora non è il nostro cliente può farsi un'idea circa quello che facciamo e più che altro l'opinione delle altre persone. Google My Business può essere appunto utilizzato da tutti però c'è ci sono due vincoli che sono piuttosto forti. Uno bisogna avere una sede fisica che sia un negozio che sia un ufficio o che sia anche uno spazio in un co-working ci deve essere una sede fisica raggiungibile altrimenti il sistema si blocca e non ci fa completare la scheda. La seconda cosa necessaria è avere un numero di telefono che sia appunto associato a noi. In sintesi questa velocissima carrellata su quello che possiamo fare utilizzando Google possiamo fare analisi di mercato possiamo vedere se ci sono argomenti che tirano di più e sono più interessanti in quel momento storico oppure se stanno perdendo di interesse. Vi ho portato alla mia storia anche per cercare di puntualizzare una cosa non diamo per scontato che la nostra conoscenza del mercato sia così ampia da non aver bisogno di una verifica con i dati. Certo i dati di Google non sono la Bibbia però intanto sono un punto di partenza sempre meglio che niente. Possiamo trovare spunti l'abbiamo visto con le domande ricorrenti possiamo trovare spunti circa i contenuti da produrre contenuti che sono utili perché? Perché sono domande già poste quindi abbiamo già la certezza che almeno a qualcuno potrà interessare la risposta a quelle domande. E infine abbiamo visto con Google My Business si può fare pubblicità anche gratuita e per chi invece avesse intenzioni più bellicose può ricorrere alla SEO o a Google Ads. Io sono stato veloce domande grazie a tutto quello che volete grazie grazie a un certo punto ti mostrare anche queste domande tendenzialmente con ricerche molto ampie quindi più è precisa la ricerca che so SEO specialist a Firenze che opera solamente il mondo dei divani probabilmente le domande non ti appaiono. volevo chiedere una cosa di più quando dici hai detto che volendo metterti come di lense hai fatto una ricerca per capire gli interessi come l'hai fatta per la ricerca questo qui è uno strumento un po' più sofisticato si chiama il Keyword Planner o lo strumento per le parole chiave e si trova all'interno di Google Ads lì ti dà proprio tutti i risultati e i volumi precisi delle ricerche per ogni singola parola poi dopo vanno elaborati perché chiaramente c'è tanta roba penso proprio di sì no 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 puoi avere tutte le sedi che vuoi io ad esempio non due si può fare sul fatto di cambiare la mail non penso sia un problema il passaggio proprio operativo a memoria non lo so però sì 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 anche perché qualcuno potrebbe anche cambiare la mail e quindi avere un'esigenza pratica si può aggiungere un amministratore si può aggiungere un amministratore e poi ti toglie il tecnologico altri due come scusa all'interno di Google Ads è proprio il programma sì sì si trova in alto strumento impostazioni e lì si trova no 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 l'unica differenza allora i dati più precisi li dà a chi ha un account attivato e ci sta spendendo dei soldi chi ha solo l'account attivato quindi ancora non ha speso niente li dà dei dati ma sono più che altro forbici quindi sono dati più imprecisi però meglio di niente sì Monica non lo so spero no allora chiaramente gli algoritmi sono un po' differenti però diciamo il senso è lo stesso quello di cercare di dare il risultato più pertinente in base a una ricerca ora tutto si basa sul criterio di pertinenza che ha stabilito quella piattaforma Google ha i suoi criteri di pertinenza e di rilevanza TikTok probabilmente ha qualcosa di simile ma non esattamente uguale però sì diciamo che capendo la logica di come effettuare ricerche perché gli ambienti di ricerca come hai detto te non c'è solamente Google volendo anche Amazon è un ambiente di ricerca LinkedIn è un ambiente di ricerca capendo Facebook volendo magari in maniera diversa però certo certo l'altro principio oltre alla pertinenza scusami vi rubo gli ultimi due minuti oltre alla pertinenza c'è un criterio di autorità e autorevolezza le varie piattaforme cercano di premiare quel tipo di autorevolezza lì poi come stabiliscono l'autorevolezza questo appunto dipende da piattaforma a piattaforma LinkedIn tiene molto presente ad esempio il numero di collegamenti che hai ma anche la quantità di testo che metti all'interno della scheda il numero di recensioni che hai e anche quanto interagisci questo è detto proprio a grandissime linee ci liberiamo per il pranzo o ci sono altre domande le domande possono fare anche sì anche dopo volendo ma anche a pranzo sì ma anche dopo a after hour domande su Google per tutta la serie bene grazie grazie allora applauso per Emanuele